buongiorno a tutti siamo proprio qui e io sono abbastanza un ragazzo tranquillo non non sono uno che vuole troppo infatti metto video tipo riguardo ai miei hobby sportivi che è sulla palestra e il ciclismo infatti io da una persona che ero molto molto sportiva e più dovevo anche lavorare ero arrivato a pesare sui 63 64 kg qualche successo col tempo ho trovato la ragazza o accumulato un po si può dire un po meno voglia di andare più dedicare a lei però poi col tempo ho ripreso ancora andando ancora in bici ma ho messo solo qualche chilo 4 5 arrivato tipo a 68 70 kg però andava ancora abbastanza bene poi cosa è successo abbiamo avuto una bambina col tempo nel 2019 e con la bambina e col lavoro lavorando anche il sabato e i giorni così facendo i turni notte ho trascurato molto l'attività sportiva di cui sono arrivato a pesare 115 kg per un metro 80 e non ero in pochi infatti mi sono proprio fermato essendomi fermato ho avuto anche problemi fisici tipo la tipo la pressione avevo la pressione che la minima era 120 la massima anche a 150 e infatti sono andato dalla dottoressa per capire un po la situazione no e mi fa guarda non ti do la pastiglia per la pressione comincia a perdere peso e riprendi la l'attività sportiva che facevi e riguardati sul cibo e infatti ho ricominciato abbastanza sodo e nel giro di un anno e neanche mezzo perso 40 kg e di cui andando in palestra mangiando meno sempre regolare magari non mangiano fuori pasto non mangiando dolci così e in più sempre andando in in bici e su questo sono stato molto contento infatti mi sono riportato al mio peso abbastanza forma adesso sono sui 75 però andando in palestra sono arrivato anche 80 perché alla fine è massa muscolare non è massa grassa però sto andando bene infatti adesso metterò vari video di quando sono in palestra che mi alleno e di quando vado in bici che faccio le mie girate va bene ci risentiamo ciao ciao